A questo punto, come dicevi tu, il tema dell'automatismo o il rischio che quel passaggio possa essere interpretato non solo come una semplice possibilità ma come un automatismo è stato segnalato dal governatore di Banca d'Italia Visco, da Gianpaolo Galli nella sua audizione quindi questo è un tema che non è soltanto di polemica politica è stato segnalato anche da figure molto autorevoli sul piano tecnico il punto però è invece la polemica politica perché Salvini accusa Conte di alto tradimento e soprattutto perché un pezzo importante di maggioranza cioè il partito di maggioranza relativa che ha in questo Parlamento il partito di maggioranza relativa anche perché nei sondaggi non lo è più, cioè il Movimento 5 Stelle che ha espresso quel Presidente del Consiglio Conte si è di fatto accodato alla richiesta della Lega e oggi Di Maio torna a parlarne sul Corriere della Sera in un'intervista sul Corriere della Sera prendendo tutti i punti polemici della Lega dalla presunta segretezza che non c'è perché il testo è disponibile in realtà non sappiamo quali avanzamenti sono stati fatti questa è la segretezza però questo è il 7 di dicembre sarà chiarito dal Ministero dell'Economia o no? quindi questo è allora perché dare già per scontato che ci sia stato un complotto antinazionale del Presidente del Consiglio che era il Presidente del Consiglio del governo di cui lei faceva parte caro da Milano, come spiegavamo prima e tra l'altro non è un caso che Conte già dica no, rinviamo, non lo faremo a dicembre però questo è per dare ragione al Parlamento poi dopo vedremo la praticabilità anche Conte ha detto che non firma niente a scatola di rosa ha detto che c'è il Parlamento, ha detto Conte ma giustamente, siccome abbiamo sollevato il problema tutta l'opposizione più 5 Stelle praticamente tutti tranne il PD dicono, no, momento, vediamo le carte e poi eventualmente daremo mandato di proseguire e addirittura Conte dice invece di chiuderlo a dicembre rinviamo e vedremo che cosa succede proprio perché non si sa che cosa è successo nel frattempo noi vogliamo sapere quali sono gli avanzamenti qual è la vostra proposta? voi cosa vorreste cambiare? noi non vogliamo che ci siano cose che danneggiano i risparmiatori italiani ma beh, così sia adesso vengo nel dettaglio però, allora sia per quanto riguarda i cosiddetti automatismi i metodi di calcolo come si arriva a definire un debito rischioso perché poi il diavolo sta nei dettagli è come arrivi a definire un debito rischioso l'Italia è un paese che non è mai andato in default nella sua storia i fenomeni che adesso dicono che sono a posto hanno fatto default più volte per essere chiari quindi noi non siamo mai stati in default noi abbiamo un grande patrimonio una grande ricchezza in particolare immobiliare peccato che da Monti in poi tutte le operazioni fatte hanno fatto ridurre dal 100 a 77 il valore degli immobili quindi abbiamo perso ricchezza però, allora lei dice il sistema bancario quando tu dici devi ridurre ulteriormente gli NPL i non performing loans no, però questo non c'entra è dentro, è insieme cara dottoressa il problema è che quando vogliono portare bisogna avere una proposta sul testo perché se si mettono a altri piani poi si rischia di potenziare il problema è che è questo che vogliono mettere insieme le cose no, no, no allora io credo che Garavaglia si riferisca a questo la risposta di Conte è stata dire non passerà se non sta dentro un pacchetto il pacchetto comprende queste altre due cose però il punto critico era questo allora, noi non piace questo e non piace la logica del pacchetto però la logica del pacchetto era prevista dalla risoluzione Lega Movimento 5 Stelle o no? sì, ma noi vogliamo vedere cosa c'è dentro vogliamo sapere e non le basta quella bozza non ci bastano le bozze vogliamo sapere gli avanzamenti per non aspettare il 7 dicembre intanto vado da Alessandro Sanzoni così arriviamo e prendi i lasci se dici lasci lo spreverà 500 allora questo dicevo anche ok? Grazie a tutti.